Verbanio Olimpia contro Curva Bureglie, si è appena concluso uno scontro accesissimo, qui con me ci sono quattro giocatori, due della Curva e due del Verbanio Olimpia. Allora ragazzi, i nomi? Allenatore. Allenatore, scusa, allenatore. Allenatore, aspetta che ti sparo. Va bene ragazzi, allora i nomi? Prezioso Luka ovviamente. Canetto Nicolas. Barresi Attilio. Re della Gnocca. Allora ragazzi, un breve commento, un breve riassunto sulla partita, due parole veloci. No vabbè, loro comunque hanno tenuto finché potevano, hanno giocato bene, risultato vabbè un po' bugiardo e comunque non hanno giocato male, ripeto. Non mi guardare così, arbitro. E niente, speriamo di andare avanti così. Per quanto riguarda i prototolli di sicurezza, abbiamo Mister Gnocca pronto con la pistola. Io sto già sparando le gnocche fuori dal campo. Venite Gnocche, vedete che vi sparo. Però c'è sempre poca gnocca, come sempre, ce ne saranno tre o quattro, saranno già fidanzate. Aspetteremo la gnocca ancora con fiducia. Vorrei fare un augurio. Ciao mamma, tanti auguri. Allora, sapete già contro chi giocate alla prossima? Contro Bresino noi. Superibili Canna. è di qualcosa. Tu devo dire. Luca, quando è che porti la gnocca? Io so che tu sei... Mi stai seguendo. Ti sei nominato il re dell'Africa e devi portarla tu allora. Ma tu sei il clou di intra ormai qua. La gnocca la porta sempre lui. Mi ha venuto di apparire su YouTube con sto video però. Ema non la porta, se lo dico io. La porteremo io e Luca. Va beh ragazzi, allora in bocca al lupo. Vabbè, ma come dire due cose con Sant'Anna? Questo non ha detto niente. Ma cosa vuoi dire? Con Sant'Anna dobbiamo per forza vincere. È una partita importante, penso la più importante. Ci giochiamo al girone? Sì, in teoria ci dobbiamo giocare al girone, sperando che al ritorno i nostri colleghi qua li fermano un po' anche loro. Cos'è che vuoi? Con Sant'Anna. Ti sto dando fiducia a dire no. Ma smetti, ma tu devi parlare della gnocca, mica della partita con Sant'Anna. Taglia, taglia. Vincere. Vincere.